I cantieri di Teme Piedemontana non si fermeranno grazie all'accordo trovato tra provincia di Milano e regione Lombardia illustrato nel corso di una conferenza stampa. Abbiamo risorse sufficienti per un arco di tempo che va tra i 6 mesi e i 12 mesi. Questo non vuol dire che dopo vi sarebbe il blocco dei cantieri, ma ricordiamoci che sono infrastrutture che costano globalmente più di 8 miliardi di euro, cioè una cifra che anche a livello europeo non è superata in questo momento da altre opere. È evidente che in un momento di mercato finanziario così particolare per cui è difficile fare funding, cioè trovare le risorse, abbiamo la necessità di trovare quel punto di equilibrio diverso rispetto ai piani presentati al Cipe, ma che deve essere di mercato, per cui tra capitale, cioè mezzi propri, equiti messo e finanziamento vi sia un punto di equilibrio che possa salvaguardare l'interesse di ognuno. Su 8 miliardi di lavori i piani presentati al Cipe prevedevano che vi fossero quasi 6 miliardi di euro, meno un miliardo di finanziamento pubblico, 5 miliardi di euro. Oggi si stanno ricreando equilibri leggermente diversi e quindi ci vorrà più capitale perché il mercato finanziario in questo momento ha maggior difficoltà a garantire i finanziamenti necessari. Ma guardate, amici miei, ci sono ancora tre anni di lavoro, quindi per quanto riguarda poi il provincia di Milano, il comune di Milano e altri soci pubblici di Serravalle, noi abbiamo in corso ciò che porterà alla privatizzazione delle nostre partecipazioni e abbiamo anche in programma un road show nelle 5-6 principali piazze a livello internazionale proprio per presentare un prodotto che è appetibile, prima di tutto perché è in una delle aree più dinamiche d'Italia ed Europa. In secondo luogo è comunque il terzo gruppo autostradale italiano, hanno tutto concentrato intorno a Milano, quindi sappiamo che è un prodotto importante, l'infrastrutturazione del territorio vuol dire crescita della capacità competitiva del sistema Italia, del sistema Lombardia e in un momento in cui vi è anche difficoltà a mantenere l'occupazione che attualmente sappiamo ha molte difficoltà a essere mantenute, opere anticicliche come queste, cioè opere che generano lavoro, generano ricchezza, sono essenziali per la nostra economia e il nostro territorio.